Era stato fermato dai carabinieri della compagnia di Acireale nell'ambito dell'inchiesta della procura di Catania sul duplice omicidio scoperto ieri in un fondo agricolo di Contrada Pennisi. Giuseppe Battiato, 70 anni, che questa notte ha confessato di essere stato lui ad esplodere diversi colpi di arma da fuoco contro Vito Cunzolo, 29 anni, e Virgilio Cunzolo Terrano, di 30, uccidendoli. I due cugini sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acireale nel Catanese. Secondo gli investigatori, l'ipotesi è che fossero lì per compiere un furto. Durante la notte i carabinieri hanno sentito familiari, amici e conoscenti alle due vittime per ricostruire le loro personalità e le loro frequentazioni. A cercare i due cugini erano stati proprio alcuni familiari, visto che il giorno prima non erano rientrati a casa. Le vittime abitavano nel popoloso rione di Librino. I due cadaveri sono stati trovati in un agrumeto nella frazione di Pennisi, in territorio di Acireale. La macabra scoperta è stata fatta proprio dai parenti, probabilmente condotti sul luogo dell'accaduto da qualche amico che aveva accompagnato le due vittime, che comunque era a conoscenza dei loro movimenti. Poco dopo le venti sono cominciati ad arrivare nella zona decine di persone, tra familiari, amici e conoscenti, e si sono levate subito grida di disperazione da parte della nonna di uno dei due uccisi. Sono stati i carabinieri della compagnia di Acireale a giungere per primi sul luogo del tragico accaduto per avviare le indagini di rito. Presenti anche i poliziotti del commissariato di Acireale è un'ambulanza che ha prestato le cure necessarie a parenti e alle vittime che hanno accusato malori vari. Due cugini legatissimi tra loro con il più grande dei due vito che avrebbe dovuto sposarsi ad agosto con Federica. A mezzanotte circa erano almeno un centinaio le persone provenienti da Catania per testimoniare vicinanza ai parenti e alle vittime.